Chiudiamo con la presenza del sottosegretario Vicari e ci faremo spiegare, cercheremo di capire quale può essere il ruolo di questa parte dell'amministrazione, dello Stato, o comunque il ruolo del Ministero. Soprattutto, diciamo qui, il tema centrale è quello delle aziende e dei beni confiscati. Devo essere breve? Devo dirlo? No, non lo dico. Grazie, un saluto a tutti. Cercherò di fare un ragionamento complessivo sul tema che è eccezionale. Oggi è stato organizzato in questi due giorni qui a Palermo, ma essendo anche la prima volta in cui ci mentiamo, grazie alla vostra disponibilità e quindi anche apertura di capacità di interloquire con tutti gli organi istituzionali, come Ministero dello Sviluppo Economico è la prima volta che ci cimentiamo a un confronto di questo tipo e penso che l'apporto, il contributo che può essere dato in questa prospettiva, cioè nella logica dei ragionamenti che sono stati fatti fino a questo momento, può essere assolutamente positivo. In questa materia non sono assolutamente mancati fino a questo momento i vari contributi, sono stati citati quello molto importante della Commissione Fiandaca presso il Ministero della Giustizia, quello di Garofali presso la Presidenza del Consiglio. La mia attenzione evidentemente oggi si sofferma sul rapporto tra imprese e criminalità organizzata, la criminalità mafiosa che come ormai sappiamo è banale ripeterlo, non è soltanto un problema di ordine pubblico o un problema giudiziario, ma è certamente un freno allo sviluppo economico sano del nostro Paese. sia per un libero confronto tra le imprese imprenditoriali, sia perché risorse ingenti vengono sottratte attraverso le imprese mafiose all'imposizione fiscale invece a cui sono regolarmente sottoposti i comuni cittadini e le comuni imprese. Intanto io partirei dal ribadire la distinzione tra prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa nelle imprese è la repressione del fenomeno di infiltrazione. Per usare un'espressione letta dal professor Visconti va posta l'attenzione sull'impresa contaminata, cioè sull'impresa infiltrata in maniera parziale o occasionale. Sappiamo anche che accanto agli strumenti del sequestro e della confisca vanno ricercate misure che consentono una difesa delle imprese nella fase iniziale in cui comincia a manifestarsi l'interesse della criminalità mafiosa per soggetti nati invece in modo sano. Sempre il professor Visconti ci ricorda e ci parla del controllo giudiziario. Attraverso questo strumento le imprese non vengono spossessate ma proseguono nella loro attività con l'aiuto di soggetti pubblici, esperti, non entro in questa fase del mio intervento sulla discussione che ha posto oggi la Presidente Bindi consentendo quindi di eliminare sin dall'inizio l'infiltrazione criminale. Per i casi invece in cui le imprese sono più propriamente mafiose, frutto magari di iniziative di riciclaggio, rimangono i più tradizionali strumenti che conosciamo e cioè quello del sequestro e della confisca. Ed è secondo me questo il settore quello più critico dove vediamo giungere al fallimento il 90% delle attività produttive che sono sottoposte a sequestro. Va fatto indubbiamente una riflessione anche sulla nomina dei commissari straordinari senza entrare e dare giudizio sul passato e sull'operato di chi che sia. Che però secondo il mio punto di vista, e dal punto di vista quindi cerco di sforzarmi oggi, di far comprendere mettendomi dalla parte delle imprese, dovrebbero seguire la nomina dei commissari un processo di risanamento e di destinazione dei beni sequestrati. Penso che in quest'ottica è assolutamente necessario che vengono nominati commissari straordinari, nominati amministratori esperti, comprovate capacità imprenditoriali e che non si limitano a gestire la situazione status quo ma sappiano muoversi in un contesto economico e imprenditoriale. Su questa logica e verso questa prospettiva è assolutamente, secondo me, per chi può passarsi la mano sul proprio operato, incrementare e rafforzare la collaborazione sotto ogni forma tra associazioni di imprenditori, tra magistratura, tra ordini professionali e anche tra commissari straordinari stessi. Va anche riequilibrato, secondo noi, il rapporto attuale tra la destinazione dei beni ad una destinazione di utilità sociale ed il loro, invece, riempiego nel mercato interno. La rimissione dei beni nel mercato deve essere perseguita con decisione, invece, rispettando tutte le regole e le rigorose e necessarie cautele del caso, ma secondo me non si può prescindere da un pensare, secondo queste regole rigorose, è necessaria una rimissione. Non so il modo, ma certamente una rimissione nel mercato dei beni sequestrati è necessaria. Mi piace dire che l'antimafia non ha prezzo, è il perseguimento degli obiettivi dell'antimafia in ogni luogo e in ogni metodo non ha prezzo, ma tutto ciò ha un costo. Allora, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dotazioni di fondi per le imprese su diverse finalità in maniera veramente ingente, a volte non spesso utilizzate in maniera utile e propositiva. Ma ritengo che, per esempio, come ci ricorda Luigi Donato della Banca d'Italia, ci sono imprese che hanno enormi difficoltà di accesso al credito ed il Ministero dello Sviluppo Economico, forse non tutti sanno, è una logica appunto di incubazione di imprese malate, queste finalità possono essere utilizzate, ci sono dei fondi di garanzia che lo Stato presta nei confronti di accesso al credito, non ci sono dei passaggi aggiuntivi che devono essere svolti, direttamente l'impresa va in banca, ma magari ci sono le imprese che hanno subito l'accesso al credito e ci sono le imprese che invece hanno difficoltà. Al di là delle posizioni che ha voluto esprimere, anche vere, del Presidente Bindi, la facilità di accesso al credito può essere effettuata attraverso questo fondo di garanzia che attiva direttamente la banca su richiesta dell'impresa e la garanzia la presta lo Stato. Viene fatto, viene fatto per le imprese comuni che hanno questo interesse, immaginiamo che possa essere fatto anche per le imprese malate e incubate in questo processo. Si tratta in ogni caso comunque di utilizzare, evitando sempre e costantemente, di creare una nuova forma di economia assistita, di forme di sostegno operativo per diverse tipologie di imprese, c'è qualche tipologia di attività che viene esclusa, per esempio quella del settore automobilistico, ma la maggior parte sono comprese. Ad esempio una proposta che non incontrerebbe nessun tipo di difficoltà di realizzazione può essere quella di istituire uno sportello al quale possono rivolgersi gli amministratori delle aziende al fine di cercare di acquisire fondi pubblici nazionali, come quello che vi dicevo ad esempio, ma non è l'unico, del fondo di garanzia, o i fondi europei dell'European Social Enterprise Fund che sono destinati all'imprenditoria sociale. In questo modo figure professionalmente qualificate sarebbe fortemente agevolata, una volta conclusa la fase di incubazione assistita, la vitalità economica è favorita la riallocazione nel mercato. Abbiamo detto che non tutte le imprese possono esserlo, ma con un front office presso il Ministero dello Sviluppo Economico, questa attività invece di essere dispersa a volte in finalità non utili può essere destinata principalmente anche a questo tipo di esigenze. Sul fronte dell'Agenzia dei beni confiscati, certamente ritengo che così come ogni attività umana cresce, se si modifica la mafia, si plasma anche agli sviluppi economici che il mondo e la globalizzazione ci impone, anche quelle che sono le regole di contrasto e di lotta devono essere migliorate nella loro funzionalità. ricordandoci sempre che è la legalità, e questo è un messaggio forte che deve passare costantemente perché è un messaggio culturale, la legalità è l'unica forma con la quale favorire l'occupazione ed il rispetto delle regole è quello che favorisce lo sviluppo e non il contrario. Il costo della legalità, abbiamo visto che a volte rischia di mettere fuori le aziende che sono invece virtuose a favore invece di quelle che attraverso l'illegalità raggiungono vantaggi competitivi che non gli appartengono. Sono le prime quelle che sono più soggette a uscire dal mercato se sono costrette a competere in una logica di concorrenza con chi invece per esempio non ha problemi di accesso al credito. È evidente anche, vado verso la conclusione, che a riguardo gli accertamenti antimafia rappresentano senza dubbio rappresentano senza dubbio una delle precondizioni necessarie perché si possa formare un attendibile giudizio sulla moralità di un operatore economico. Tutto questo è realizzabile mediante però una stretta collaborazione tra Stato e mondo imprenditoriale che punti certamente sull'etica della responsabilità, sull'ottimizzazione dei controlli, eventualmente anche preventivi rispetto alle vere e proprie interdittive, in modo, a volte capita, da poter realizzare un più stringente monitoraggio a tutela dell'economia legale. Concludo ricordando ed essendo consapevole, io come tutti voi, che comunque non partiamo da zero, tanto lavoro importante e utile è stato fatto. Dobbiamo favorire la ricerca di strumenti che sappiano adeguarsi ad una realtà criminale che non ha né remore né confini nazionali ormai e l'antimafia deve essere uno strumento in continua evoluzione, operativa e legislativa, con sempre nuove professionalità, strumenti anche credibilità sia nei confronti degli operatori sia nei confronti di tutti i cittadini. Con un rinnovato patto e con una rinnovata umiltà consapevole che oggi è possibile dialogare insieme verso questi obiettivi, io credo che, e di questo è un applauso che vi ripeto, non perché io sono qui, sono di passaggio, nel senso che forse più di tutti nella mia vita ho dimostrato che l'attaccamento alla poltrona è qualcosa che non mi appartiene, però avere la capacità e la lungimiranza di rinnovare queste regole nel senso e nel modo che abbiamo qui ascoltato fino a questo momento e pensare che lo sviluppo economico e di chi lo rappresenta oggi istituzionalmente nel Paese attraverso il Ministero debba avere un ruolo utile e propositivo soprattutto nella fase di incubazione, ripeto sempre, delle imprese malate è un fatto che rinnova anche il coraggio sociale di tutti quei ragazzi e di tutta quella nuova occupazione che si vorrebbe immettere nel mondo del lavoro con un'auto imprenditorialità e che invece spesso sono scoraggiate per forme di rischio che sanno che in qualche modo nel nostro Paese e soprattutto in Sicilia si corrono quotidianamente. Bene, grazie. Con il nuovo patto chiudiamo questa tavola rotonda. Buon pranzo. Si riprende alle 15 puntuali perché Coco... Alle 15. Prevenzione. Aspetta, vediamo se so leggere. Il sistema della prevenzione e amministrazione. No. Prevenzione. Va bene. Ok. Grazie. 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 Grazie.